Giacomo Rota, oggi primo giorno ufficiale di lavoro da segretario generale della CGL. Primo giorno di lavoro con tanti impegni, molte responsabilità. Io desidero sin da subito ringraziare Angelo Villari per il lavoro che ha svolto per l'organizzazione e per la grande amicizia che ha nei miei confronti. Ringraziare il comitato direttivo che mi ha eletto e i delegati al congresso. Giacomo Rota, 45 anni, è lui il nuovo segretario generale della CGL. Da venerdì ha ereditato il posto di Angelo Villari. Rota, militante in CGL dall'88 a 22 anni, è stato anche segretario generale della Camera del Lavoro di Gran Michele e poi segretario provinciale regionale della Filt, il sindacato dei trasporti. Ai nostri microfoni stamattina Rota ci ha svelato la mission che intende portare avanti nei prossimi mesi in città. Le priorità sono la difesa del lavoro, la continuazione delle grandi vertenze. Penso all'avvertenza Micron con 127 persone che rischiano di perdere il lavoro. Penso alla crisi della microelettronica che invece non dovrebbe esserci perché va benissimo in tutto il mondo e quindi bisogna difendere l'AST e lavorare su Micron. A proposito del settore della microelettronica, della crisi che sta attraversando, quale potrebbe essere la carta vincente? La carta vincente è chi finalmente si investa su questo. Lei ha detto che Bianco risponde di fronte ai problemi del lavoro. Sì, Bianco è attento, tutte le volte che l'abbiamo cercato c'è stato. Lavoreremo insieme su tante cose, questa città ha un'economia al collasso e una società dolente. Molti pensionati, molti giovani non riescono ad arrivare a fine mese, tanti giovani vanno via, nuove povertà esplodono. La CGL in questo campo ci sarà.